E in questa vigilia della festa dell'assunzione della Beata Vergine Maria andiamo proprio in una parrocchia, la parrocchia Santa Maria Assunta a Simeri Cricchi, siamo in Calabria con un amico di Padre Pio TV, un collaboratore, infatti si è conclusa la stagione numero non ricordo perché ormai collabora da così tanto tempo, Don Francesco Cristoforo con Padre Pio TV che ho perso il conto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Paola e a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Grazie, allora saranno in tanti a seguire questo collegamento perché Don Francesco è appunto parroco, sacerdote, scrittore ma è anche potremmo dire un missionario digitale prendendo a prestito le parole di Papa Francesco. Quindi in tanti sicuramente ti seguiranno e ci stanno seguendo durante questa diretta. Allora, domani festa grande nella vostra parrocchia proprio intitolata Santa Maria alla Vergine Assunta. Quindi insomma, qual è il significato di questa festa dell'assunzione della Beata Vergine Maria, Don Francesco? Allora, intanto noi iniziamo questa sera alle 23.30 con un rosario, ci uniamo alla richiesta del Patriarca latino di Gerusalemme per pregare per la pace e poi a mezzanotte la messa dell'assunta. Io quando parlo di questa festa la definisco con tre termini, un privilegio, un dono, una responsabilità, un privilegio per la Vergine Maria che dopo aver detto il suo eccomi è stata sempre questa serva obbediente e fedele al Signore e quindi come privilegio la Santissima Trinità l'ha assunta in cielo, in corpo e anima. Questa è la nostra fede. Un dono per noi cristiani perché noi siamo invitati ad essere lì dove è la madre e la madre ci attende in paradiso. Non vorrei che la madre sia in paradiso e noi da tutt'altra parte. Quindi ecco perché è una responsabilità, dobbiamo impegnarci con la nostra vita a imitare le virtù di Maria. Dunque mi piacciono queste tre parole che hai utilizzato Don Francesco. E a Maria è dedicato il tuo ultimo libro, Le vie di Maria, storie di pellegrinaggio e conversione all'Urd, Fatima e Meggiugorie. Ti lega da sempre una devozione straordinaria alla Vergine Santa. È così? Fin dalla fanciullezza, direi, avevo otto anni quando grazie alla nonna materna, Carolina, ho imparato la prima preghiera che era una preghiera mariana perché la nonna stava seduta al cammino di casa nostra con la corona del rosario in mano e mi sbigliava questa preghiera che io non riuscivo a capire. E quindi glielo chiesi, nonna ma che cosa stai dicendo? Perché non si capisce, no? E lei mi insegnò l'Ave Maria. Ed allora è nato questo rapporto bellissimo, filiale, tra madre e figlio con la Madonna, che non ho mai abbandonato, ma soprattutto che lei non mi ha mai abbandonato. E questo libro, Le vie di Maria, è un omaggio alla Madonna. È anche una, come dire, una dichiarazione d'amore pubblica, una lettera aperta per dire quanto sono innamorato di lei. Perché spesso scriviamo dappertutto i nostri sentimenti, però poi quelli belli, quelli importanti, non li condividiamo. Questo è un sentimento importante che va condiviso. Don Francesco, approfitto della tua presenza qui con noi stamattina, perché sei molto attivo sui social, appunto Facebook, Instagram, YouTube. Infatti tanti sono i momenti anche in diretta che attraverso questi canali condividi con le persone che ti seguono, a cui non fai mai mancare il tuo appoggio, le tue parole di conforto. E mi ha colpito un post di qualche giorno fa a proposito di quello che riguarda il bullismo e il cyberbullismo. Non c'entra niente con l'argomento con il quale abbiamo iniziato, però mi ha molto colpito il fatto che hai fatto questo post chiedendo ai genitori di sedersi 5 minuti con i loro figli per spiegargli determinate cose. Perché in qualche modo tu, quando eri piccolo, sei stato anche vittima di derisione e di bullismo. Quindi in qualche modo puoi testimoniare anche quello che è significato per te? Sì, perché a motivo della disabilità venivo escluso, messo da parte. Mi dicevano tu non puoi venire, non puoi giocare con noi, sei un poverino, addirittura femminuccia. Quindi appellativi pesanti che feriscono, che rimangono. Quindi oggi purtroppo anche a causa dell'uso dei social abbiamo una generazione di violenti e soprattutto di persone che si sentono autorizzati a dire tutto su tutti in ogni momento. Senza riflettere un attimo, senza pensare che quel messaggio lo può leggere il figlio, la figlia, un bambino, qualcuno che si scandalizzi. Quindi l'uso della parola è importantissimo e oggi dobbiamo educarci tutti a questo. Ecco perché chiedevo, genitori sedetevi e dite ai vostri figli che non è bene ridere degli altri, ma è bene ridere con gli altri, eccetera, eccetera. Quindi non bisogna mai smettere di educare al rispetto. Grazie per questo messaggio forte che ci hai voluto regalare questa mattina. Vogliamo concludere con un messaggio di speranza, Maria, come segno di consolazione e di sicura speranza. Che cosa, quale messaggio traspare, emerge da questo tuo libro? Perché come sempre la speranza è una parola che neanche nei tuoi precedenti lavori non è mai mancata. Ma per me la parola più bella che si può trovare in questo libro è madre. Maria è una madre. E sappiamo quanto è importante la figura materna. Quindi in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, bella, brutta, triste, ricordatevi che voi in cielo avete una madre. E a proposito di madre, caro Don Francesco, approfitto anche per fare in diretta agli auguri ai tuoi genitori che qualche giorno fa hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di matrimonio. E' stato emozionante, guarda al massimo, no? Perché in 18 anni di sacerdosio ne ho celebrato di anniversari matrimoniali, anche importanti, anche 60, 70. Però avere i genitori di fronte, avere la possibilità, mentre loro ti ascoltano, di parlare loro, è stato bellissimo. E anche molto commovente. Allora, noi vogliamo davvero augurarne altre 50 di anni insieme ai tuoi genitori. E poi la cosa bella della comunità di Simeri Cricchi, della parrocchia Santa Maria Assunta, è che ogni evento viene vissuto dalla comunità, viene celebrato da tutta la comunità. Come se fosse un evento di famiglia, quindi non importa se magari viene celebrato l'anniversario o la festa di un vicino di casa o di un altro parrocchiano. Tutti quanti insieme festeggiano come se si trattasse di una persona di casa, di un familiare stretto. Quindi questa è la bellezza che si percepisce arrivando a Simeri Cricchi nella parrocchia di Santa Maria Assunta, di cui appunto Don Francesco è parroco. Grazie. Grazie Paola. Grazie. Alla prossima occasione. Dai, speriamo di, sicuramente ripartirai con Fatti per il cielo, prossima stagione televisiva. Poi avremo modo appunto anche di dare indicazioni ai nostri amici sull'orario e il giorno. Secondo me resteranno un po' quelli, però poi vedremo. Grazie. Ciao, ciao, ciao Don Francesco. Grazie di cuore Don Francesco Cristofalo. Allora andiamo in pubblicità e poi apriremo insieme la pagina dedicata alla storia e alle notizie di oggi.